Con i suoi 4 metri e 52 di lunghezza la Coleo si piazza nel segmento delle SUV medie, un ottimo compromesso fra abitabilità interna e ingombro esterno, sulle sue qualità stradali non avevamo dubbi e abbiamo perciò voluto provarla su un tratto di fuoristrada seppur leggero. Il 2000 DCI nel power step da 175 CV permette di districarsi bene anche sui fondi più sconnessi, grazie anche al supporto della trazione 4x4 all mode che può essere anteriore, integrale e permette anche di bloccare il differenziale.